Ciao a tutti, ho insegnato i miei figli di scusare per l'unico, anche se l'unico ha scusato l'unico accidentemente. Dillo bene, lai! Lai, scopio, giuntiquattro! È assurdo che tu debba scusarti per una roba del genere. Spero che l'Italia si evolva perché siamo veramente indietro su questi temi e stiamo diventando lo zimbello del mondo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, scusate se non mi faccio vedere in questo video, ma è proprio una notizia che ho letto nelle ultime ore e volevo assolutamente parlarne perché mi sembra assurdo che nel 2021 ancora non ci si renda conto di determinate cose. Alcuni giorni fa, credo, io non sono in Italia, però ho letto le notizie e da quel che ho capito deve essere andata in onda una vecchia replica del 2014 di Striscia alla Notizia in cui Michelle Hunziker e Jerry Scotti praticamente prendevano per il culo la comunità cinese o in generale la comunità asiatica dicendo le solite cose di linguistica che non sanno pronunciare la R o soprattutto ancora più grave, tra l'altro, farsi gli occhi così. Come l'hai? L'hai scoglio 24? L'hai scoglio 24? Perché il nostro pinuccio ci parla della sede di Pechino. L'hai scoglio 24? L'hai, l'hai, dillo bene, l'hai. L'hai scoglio 24? Ho capito? Una cosa veramente orribile, non riesco a capire che cosa ci sia divertente perché comunque io conosco tanti cinesi o comunque tante persone asiatiche che hanno vissuto in Italia o che comunque sono nate in Italia e che in passato specie sono state prese in giro a scuola per questa cosa. Una di queste, tra l'altro, è anche una youtuber che ha fatto un video che vi lascio in descrizione magari in cui appunto parlava già del discorso del makeup, comunque del fox eyes, come comunque questo gesto è considerato molto maleducato. Per il makeup, diciamo, è un discorso diverso ma il fatto che è stato utilizzato in questa situazione è veramente una cosa assolutamente assurda. Cioè io mi stupisco come in Italia nessuno si sia accorto di niente e nessuno abbia fatto niente. Cioè io mi chiedo che è stato il genio che ha avuto la genialata di mandare in onda una cosa del genere perché fa veramente schifo. Cioè guardate qui. Io ragazzi vi sto dicendo questa cosa perché davvero sarà perché vivo in Asia da ormai dieci e più anni ma a me sembra assurdo come sia dovuto arrivare una pagina straniera come Diet Prada che ha 2 milioni e 700 mila follower a richiamare la Michelle Unziker e Jerry Scotter per fargli notare che hanno fatto una cavolata perché a giudicare da questa storia che non so quando è stata pubblicata ma presumo sia stata pubblicata in questi giorni non lo so però comunque cioè una Michelle Unziker che mi fa una storia così vuol dire che non credo che si sia assolutamente resa conto della gravità di queste azioni ma io mi chiedo come sia possibile che comunque non abbia nessuna persona cinese non abbia mai sentito parlare di questa cosa cioè mi sembra comunque una donna molto intelligente Michelle Unziker che vive comunque sui social quindi mi chiedo come abbia potuto pensare che fare una storia del suo cane dicendo sta facendo il cinesino poteva essere una buona idea. Poi ha fatto questo messaggio di scuse il che comunque è stato apprezzabile anche se devo dire non sono un gran fan di messaggi di scusa con non vedo perché mettere il se in ogni caso vabbè questo è quanto io spero genuinamente che si sia pentita io sono sempre stato un grande fan di Michelle Unziker mi è piaciuta e mi è piaciuto anche il fatto che comunque in qualche modo si sia scusata anzi io penso che questa sia una cosa molto positiva che non spesso in Italia comunque succede che ci si scusi quando si fa una cazzata quindi tanto di cappello a Michelle Unziker al di là dell'uso delle parole eccetera eccetera che vabbè comunque si sa fare un video di scusa fatto bene non è mai una cosa semplice. In ogni caso volevo commentare i commenti che sono arrivati sotto questo messaggio di scuse di Michelle Unziker perché la maggior parte del pubblico straniero magari non si rende nemmeno conto che sia possibile che in tv e su un programma visto da migliori persone venga trasmessa una cosa del genere quindi cioè le persone i commenti in inglese sotto questa foto erano del tipo pensaci due volte prima di fare una cosa del genere oppure ti rendi conto di che cosa hai fatto di sbagliato. In ogni caso la cosa che mi ha sorpreso sono invece i commenti invece che sono stati fatti in italiano cioè che hanno 480 like per esempio ormai credo che il senso dell'ironia sia finito poveri nostri figli non sapranno più ridere tanto ormai qualunque cosa è discriminatoria ma dai che pesantezza non si può dire più nulla non hai fatto nulla di male ma tutti questi hanno commenti con tantissimi like però nero si può dire senza problemi vero? ma cosa vuol dire cioè perché questo commento cioè non riesco a capire non è che non è che se tu usi un appellativo più discriminatorio rispetto a un altro sia ok al posto cioè non riesco veramente a capire tutta questa mentalità veramente che tristezza rilassatevi. Allora a me fa ridere come tutti questi commenti che sono arrivati sono arrivate da persone bianche io voglio io voglio una persona di etnia asiatica che commenti con questa leggerezza su una pagina io dico se non sei chiamata in causa perché non sei una persona che sei stata tirata fuori e presa in giro cioè stai zitta cioè non uscire con queste cazzate io dico è assurdo che tu debba scusarti per una roba del genere no non è assurdo è assurdo che sia stato mandato in onda è assurdo che abbia fatto la storia e sinceramente è assurdo che ci siano persone come questa persona che ha ricevuto 462 like che pensano che non si debba scusare perché se tu fai una cazzata e hai offeso qualcuno e non è se hai offeso qualcuno hai di fatto offeso qualcuno e ti sei presa di gioco di una determinata categoria di persone si parla comunque di colonialismo cioè io non vorrei andare indietro fino alla merda in realtà è tutto iniziato lì e quindi non è il momento di fare queste cose e sinceramente anche il fatto che ci siano persone che abbiano commentato così sotto questo video vuol dire che questa persona non ho capito niente di questo messaggio di scuse e è un peccato allora è proprio un discorso talmente banale e stupido che non so nemmeno come poterlo spiegare in un video però nel senso cioè non lo so ragazzi cioè se non capite il perché questo è problematico non so come spiegarlo però nel senso cioè voi non potete prendere comunque ma anche pensate veramente basta pensare solamente alla storia cioè per capire quanto questa cosa è sbagliata comunque vabbè io non ho più voglia di parlare vi posso solo dire che spero che l'Italia si evolva perché siamo veramente indietro su questi temi e stiamo diventando lo zimbello del mondo se andiamo avanti con queste cose soprattutto se ci sono stranieri che leggono questi commenti perché io ti giuro che quando l'ho detto a caso cioè veramente c'è rimasto non è che c'è rimasto male per la presa per il culo in sé ma per il fatto che lui ha vissuto un anno in Italia e già sa che in realtà infatti mi fa ridere che la gente dice razzismo in Giappone quando c'è non c'è paragone con quello che possiamo vedere in Italia ma soprattutto in un anno come quest'anno questi ultimi mesi di coronavirus eccetera proprio non rendersi conto di una cosa del genere qua non mi riferisco alla unziker ma di queste persone cioè io lo trovo assurdo io non lo so ragazzi ditemi voi se che cosa ne pensate perché io non so cosa dire io vi saluto e ci vediamo al prossimo video non lo so ho registrato oggi due video in realtà se avessi sentito questa notizia avrei registrato questo vabbè vi lascio un saluto ciao ciao